Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Mua deve sospirare quando inizio il video Per Dio E' proprio... Stai zitto, non le faccio Allora ragazzi siamo, come promessa, secondo episodio Rank 30 cane Insieme ai due falliti, Diego e Ruggero Ma oggi c'è un ospite speciale, abbiamo sotto di me un clown Ed è Cursed Vi lascio i suoi link in descrizione, se volete seguite anche Cursed La mappa di oggi è questa qui Mi hanno kickato dal club Quindi seguite di nuovo Cursed, mi raccomando Perché probabilmente mi avrà kickato lui E andiamo con la partita al volo Ok, eccoci qua ragazzi Abbiamo la prima partita Cane contro cane Vediamo Vuoi chi si è Amaru? Perché ora non sono nel club, può darsi Sì, sì, stiamo registrando però Grazie, grazie, ciao Ciao, ciao, ciao e stai zitto Allora, occhio ragazzi Allora, spacco intanto Dio Perché mi sono rotto le balle, veramente di stibarle io Ok, è One shot il cane No, è morto Ti metto il buff lì Grazie Ora devi battere la Jessi, mi raccomando Beh, la puoi che ha battuto Bravo Morto Rompere la torretta Questa ragazzi è molto sudata Quando puoi rompirlor un muro davanti Appena hai la ultima Non ci credo per Dio Dietò, dietò, giocate se Sta anche la gamba Mamma mia ragazzi che sudore sta partita Che lato Barney, no? E' buona il cosa? Vabbè, l'accurato Dittata Jessi un po' di volte Presa Jessi Dai, finisce la 6-10 No, non muore E' One Ok, aperto Buono Nice Perdi un po' di tempo prima di segnare Aspetta fin quanto puoi Buono la ultima Buono Ok ragazzi Ok ragazzi Già si si è resa Approfittiamola Mi ha shottato Dio, buono Sandy è morta? No No, 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 mua gioca a 6-10 Fa la fine Vai su Jessi per favore Io? Eh, Jessi contro Jessi Perché avete switchato? Io non comprendo ragazzi Voi dovete farmi tiltare alla fine Perché giocate randomicamente Io non vi comprendo Io non vi comprendo per Dio Io non vi comprendo Switchate a caso Fate le cazzate alla fine La Jessi sta cariando È di là Vedi di cariare anche te Ok ragazzi Siamo arrivati con la seconda partita Va bene Nulla ragazzi Il video è rovinato da Bianchi che parla E muo pure Però va bene Grazie mille muo Grazie Bianchi Sì, sì, sorry Io ragazzi Se non tilto Per il rank 30 Non sono momori Devono trovare tutti i modi del mondo Per farmi tiltare Tutti i modi del mondo Ok, molto bene qua Abbiamo aperto la mappa Un minuto Mamma mia Che scudi ragazzi Che scudi E niente Si sta a perdere tempo Perfetto Ora andiamo al volo Con la penultima Sperando in bene Ok, eccoci qua ragazzi È la penultima Penultima Chiaro Non ho detto ultima Tranquillo Ah scusa Ho detto ultima Ho detto eccoci qui ragazzi Non ho detto nient'altro Prova Maybe Maybe Gessi su No Che l'hai killato No va bene Gessi su Gessi Va bene Va bene così Prova a prenderlo te Diego se vuoi Il buff Sì Ok Loro non hanno il cane ragazzi Quindi non dovremmo aver vantaggio immenso Per il fatto dei power up Ti do questo power up Ti do È mua così Apri anche Bella la kill Va bene Abbiamo un due Con i power up State vivi Mantenete il controllo Soprattutto Jackie ragazzi È il vostro feeding Li fate più danno E lei non può avvicinarsi Quindi Vocchio Jackie Bella Bello rallentamento Mento in mezzo Bisogna indebolire Jackie Muano Sa giocare safe Molto bene Io ho quasi un altro ultimo Da ridare a quel fallito Che ci crepa A gratis Da Jackie Buono Buonissimo Bravo E let's go Ruggero è quello che ci dovrebbe carriare In teoria In teoria Sulla carta Sulla pratica È un po' diverso Però Diego Ruggero Non ci doveva carriare Ah sì infatti GG Penultima partita vinta Giocata davvero da Dio Infatti sei player E ora Proseguiamo con forse l'ultima Che poi L'ultima No ok Solo per me Oh Snipe No Forse Vedremo Vediamo un pochino cosa ci ha fatto in sta partita No Ok ok Che poi ragazzi non ho capito Cioè le BB si tiltano Ho notato Mi sto push Con i miei muri Si tiltano Sparano i muri Invece che sparare a me Non comprendo perché Il fatto sta che è meglio per noi Primo gol segnato Spina 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 che poi la perdiamo come prima Vero Fallito Fallito Dai no Almeno ha messo la La faccina triste Quindi se ne è pentito un minimo Speriamo Ok Né male Non so che ci sia mid Ok Passo Passa Passa Ok GG Rank 3 D'unche per noi Molto molto bene Andiamo a vedere al volo Quanto siamo Ah è vero Dovevo fare screen e video Ma rim Ripamen Facciamo al volo Anche lo screen tattico Scusa non puoi fare l'ultima Per le mie mille Si ora lo facciamo Però prima fai una bella Screen tattico Ripalle Ah è vero Hai ragione Facciamo lo screen fatto dopo Vabbè per il video Lo chiudo comunque Vi mostro al volo Alla classifica Siamo Secondi in Italia GG Amaru Che è stato mostruoso Con il push di questo Nuovo brawler E Sedicesima al mondo Non è male Vi ricordo anche che Nell'episodio di oggi Cioè nel video Prima di questo Abbiamo shoppato tutto il pass Ora ve lo mostro al volo Quindi non perdetevelo Nel caso ve lo avessete perso Iscrivetevi Lasciate like Attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Seguite Diego Mua Il clown Cursed Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi